Siamo al Parco di Repressione Stradale di Cropani Marina, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Colisod, del Comune di Hamm & Partner e anche il Comune di Cropani. Oggi abbiamo il Vice Sindaco di Hamm, Marcus Kreutz. Ci è venuto a trovare, siamo felicissimi. Due paroline su questo parco e su questi progetti che facciamo insieme. Io sono felicissimo di avere la possibilità di poter ritornare a Cropani perché ho avuto l'occasione di vedere questo parco già qualche anno fa e adesso vedere tutti i ragazzi che hanno la voglia e si divertono. È davvero una bella cosa. Ringrazio sia il Comune di Cropani sia loro, il mio caro amico, per questo bel progetto. Oggi noi abbiamo qui Polonia, Francia e Germania e anche il Sindaco di Cropani. Che cosa ne pensa che abbiamo portato mezza Europa in questo parco? Io penso che sono felicissimo e onorato della presenza di questi ragazzi e della presenza del Vice Sindaco di Hamm che ci onora di essere qui a Cropani. Questo parco è un avamposto, un avamposto di legalità, è un avamposto di socialità e per noi è un grande orgoglio. Questo orgoglio si traduce nella persona di Ores che lo porta avanti con professionalità, con impegno, con attenzione. Non si ferma mai, non c'è mai un ostacolo che mi faccia vacillare e di questo noi ne siamo contenti, oltre che essere, come dire, ripeto, orgogliosi di averti qui nella nostra comunità. Ovviamente oggi anche questa presenza, il preziosito è la presenza di Marcos. E un'ultima domanda a Gianfranco Sanizzi di Cropani, lui è benedì a questo parco. Che emozione provi adesso da questo parco? Pensare a Cropani adesso, quando l'abbiamo preso, e vedere qui oggi il vice sindaco di Hamm e il sindaco di Cropani qui insieme, veramente stento a crederci. È un'emozione fortissima e ringrazio loro di essere qui e di essere sempre presenti in ogni occasione che facciamo su questo parco. Grazie a voi, ragazzi. Grazie a te.